L'Aquila si prepara ad accogliere il rientro degli alpini del nono reggimento dalla Lettonia e lo farà con una grande cerimonia in centro. Gli alpini del nono reggimento tornano all'Aquila dopo oltre sei mesi dalla missione Lettonia. Venerdì mattina una cerimonia che inizierà alle 10.30 a Piazza Palazzo per terminare con una sfilata sino a Piazza Duomo. In testa al corteo ci saranno i bambini e ragazzi del centro estivo Discovery Summer Camp di Collettara di Scoppito e l'associazione aquilana Dream Maker che sfileranno insieme agli alpini in armi e in congedo e ai gruppi storici cittadini. Ci sarà anche la fanfara della sezione Abruzzo. La missione del nono reggimento alpini è iniziata a novembre del 2018. I militari sono stati impegnati in Lettonia con attività legate agli impegni presi dalla Nato con l'iniziativa E-Hansed Forward Presence. Una missione che ha visto gli alpini impegnati a rotazione. Quelli del nono reggimento hanno partecipato ad attività operative e addestrative gestite e guidate dal Battle Group Latvia, unità guida canadese composta da truppe provenienti d'Albania, Canada, Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia, Slovenia e Spagna sotto l'egida della Nato.